signori buongiorno e bentornati sul canale del master k io sono il master k il vostro ospite su questo canale fino ad ora abbiamo parlato del calcolo del grado di sfida quando questo era riportato sul manuale e di come andare a manipolare questo valore per adattarlo all'effettiva sfida che i personaggi devono andare a incontrare il fatto però è che ci sono molti casi in cui non esiste alcun grado di sfida di partenza da cui iniziare a fare i calcoli perché i personaggi sono in situazioni abbastanza bislacche o comunque non previste come incontri dal manuale ma che però si qualificano come incontri per la logica del gioco in questo video andremo a parlare di come fare a calcolare il grado di sfida quando non abbiamo un valore di partenza da cui partire partiamo ripetendo il fatto che per come funziona la logica del d20 system qualunque situazione di gioco i personaggi debbano andare a superare essa prevede che quello sia un incontro e che quindi abbia un grado di sfida da cui il master poi possa calcolare le varie ricompense sia in esperienza che di tesoro finora abbiamo sempre parlato degli incontri più facili o comunque più classici da calcolare per il master cioè gli incontri di combattimento e le trappole situazioni abbastanza dirette in cui i personaggi debbono sconfiggere un avversario o superare un ostacolo definito di conseguenza è possibile prendere proprio da manuali quali sono i valori previsti in difficoltà per quelle situazioni abbiamo anche visto come questo valore non sia sempre affidabile anzi nella maggior parte delle situazioni il master deve poi andare a ricalcolarlo o variarlo in base a quale sia l'effettiva situazione del gioco in cui viene introdotto il fatto però è che le trappole e i combattimenti non esauriscono la totalità delle situazioni in cui una quest possa portare i personaggi anzi in alcuni casi sono meno della metà delle cose che i personaggi poi effettivamente devono fare durante il gioco il d20 system copre un'enorme serie di giochi di ambientazioni in cui i personaggi giocanti si trovano coinvolti in una quantità di situazioni che devono superare molto disparata dagli avventurieri del Dungeons & Dragons che debbono esplorare i cunicoli dell'underdark mentre superano crolli sacche di gas tossico e improvvisi burroni o cambi di rotta dei tunnel ai ribelli di d20 star wars che devono riuscire a contrattare buoni prezzi per le loro forniture dal cartello Egliat mentre cercano di eludere la sorveglianza dell'impero che li caccia come terroristi gli avventurieri del d20 modern trovano assassini fanno indagini scoprono indizi avventurieri che risolvono misteri avventurieri che superano enigmi la quantità di situazioni possibili fondamentalmente letteralmente incalcolabile anche perché dipende dalla singola quest e da come ogni singolo master decide di gestirla in nessuno di questi casi però è presente un chiaro grado di sfida di partenza non esiste una situazione di gioco a cui tutte queste possono essere ricondotte come è possibile quindi fare per il master ad assegnare una difficoltà a queste situazioni? fondamentalmente la domanda è appunto come fare a calcolare il grado di sfida quando non è possibile avere un valore di grado di sfida di partenza da cui iniziare a calcolare nei casi più semplici si può semplicemente cercare un altro elemento del gioco che già abbia un grado di sfida definito e che abbia una meccanica molto simile o paragonabile il soffitto di una miniera che crolla o il pavimento di un'antica magione che è marcito cede sotto il peso dagli avventurieri non hanno in gioco un effetto diverso da quelle che potrebbero essere una trappola a macigno in caduta o una trappola a botola ovviamente non si può disinnescare un pavimento che cede sicuramente non con una prova di disinnescare congegni o rapidità di mano però è possibile puntellare un soffitto o mettere delle travi sul pavimento magari sostituendo la prova di utilizzare congegni o di disinnescare trappole con una prova di conoscenza ingegneria o professione architetto in linea di massima tutto quello che potrebbe causare dei danni ai giocatori darebbe la possibilità di effettuare un tiro salvezza e possa essere evitato con qualche tiro di abilità può essere ridotto a una trappola a questo punto il master non deve fare altro che andare a vedere quale sarebbe il grado di sfida della trappola grossomodo equivalente alla situazione in cui i giocatori si sono cacciati e poi effettuare quei minimi cambiamenti meccanici che servono a rendere coerente il pericolo all'interno dell'ambientazione tra l'altro diversi manuali riportano già i gradi di sfida precalcolati per alcuni pericoli ambientali o analoghi molto frequenti in quel genere di storie come i crolli miniera all'esposizione a gas tossici o magari anche l'esposizione al vuoto o a temperature estreme ci sono poi situazioni che non prevedono danni o tiri salvezza o tiri abilità per evitare di effettuare tiri salvezza e danni ma che possono essere ricondotte semplicemente a una lunga serie di tiri in disparate abilità questo è per esempio il caso degli incontri sociali in cui gli avventurieri per superare l'incontro non devono combattere contro gli avversari ma devono superarli in una serie di prove tra diplomazia, raggirare, percepire intenzioni, intimidire però potrebbe estendersi anche ad altre situazioni come una competizione sportiva o altre complesse attività fisiche come scalare una montagna o scalare il muro vicino di un castello ad esempio potrebbero anche essere prove tecnicamente slegate tra di loro ma a volte tutte a ottenere uno stesso risultato quando gli avventurieri arrivano in una nuova città molto probabilmente cominciano ad eseguire una serie di prove per farsi amica alla popolazione trovare i mercanti migliori, scoprire luoghi di interesse prove in abilità disparate apparentemente slegate tra di loro ma che hanno tutte lo stesso obiettivo cioè migliorare la vita degli avventurieri in quella città una singola prova normalmente non è sufficiente a qualificarsi come incontro anche perché superare o fallire una singola prova molto spesso è più una questione di fortuna che di abilità o preparazione da parte del personaggio o del suo giocatore se però ci sono molteplici prove, almeno 5 o 6 prove tutte insieme volte a uno stesso obiettivo il master può benissimo considerare quell'obiettivo un incontro e raggruppare tutte le prove in un unico grado di sfida se per esempio gli avventurieri devono smascherare il complotto dell'astuto cortigiano e convincere il re di essere stato ingannato dovranno superare una prova di percepire intenzioni con CD30 per intuire le menzogne del cortigiano due prove in varie conoscenze per avere informazioni su chi potrebbe beneficiare dell'imbroglio quindi capire i mandanti una prova di raggirare o di intimidire con CD20 per allontanare il cortigiano e per finire una prova di diplomazia con CD30 per convincere il re della loro buona fede di conseguenza per trovare la classe di difficoltà faremo 30 più 25 più 25 più 20 più 30 il tutto fratto 5 che fa 26 26 meno 15 da 11 il grado di sfida di questo incontro sarà 11 il che lo rende effettivamente un grado di sfida, un incontro semplice da superare tra degli avventurieri di undicesimo livello che avranno quindi 14 gradi nelle loro abilità più probabilmente un altro più 5 più 6 dato da bonus di caratteristica bonus che si sono dati da oggetti magici o da incantesimi e che sicuramente non richiederà più di un quarto delle loro risorse per essere superata esistono poi situazioni che non possono neanche essere gestite come se fossero una serie di prove d'abilità perché magari riguardano puramente il ruolo, l'interpretazione dei personaggi magari per situazioni che non sono direttamente collegate né alla quest che fanno facendo in quel momento né alla linea narrativa in generale i personaggi per esempio potrebbero spendere molto tempo per caratterizzare per bene un gregario che segue il party o magari investire risorse dei loro personaggi in un'attività, in una situazione economica in cui sono coinvolti io come master ho visto molte volte interi party passare un'intera sessione di gioco anche solo a discutere tra di loro di situazioni politiche o situazioni sociali che sono state viste in quest e che magari non avevano alcuna reale attinenza con la storia io come master le avevo inserite solo per fare colore ma i giocatori hanno deciso invece che erano molto interessanti e quindi hanno voluto approfondire l'argomento per come funziona la logica del sistema essendo che i giocatori ci hanno speso soldi, tempo e risorse sopra quelle situazioni anche se di puro ruolismo sono da considerare degli incontri e quindi i giocatori, i personaggi hanno diritto a ricevere una ricompensa per averle superate ovviamente però non è possibile ricavare in nessun modo un grado di sfida appropriato anche perché spesso sono situazioni in cui i personaggi sono in conflitto tra loro stessi non con qualche altro elemento definibile dell'ambientazione in casi del genere o comunque tutti gli altri casi in cui potete trovarvi in cui non è in nessun modo possibile capire come calcolare il grado di sfida ma è evidente che gli avventurieri meritano una ricompensa per quello che hanno fatto la convenzione vuole che si consideri che i personaggi abbiano superato un incontro il cui grado di sfida è pari al livello medio del gruppo verranno quindi ricompensati al prossimo passaggio di livello con l'esperienza relativa e la prossima volta che gli avventurieri guadagneranno tesoro a quel tesoro si aggiungeranno anche il tesoro previsto per un incontro o quel grado di sfida all'interno del sistema che state usando in quel momento diciamo che per questo video è tutto e con questo video finiamo almeno per ora il discorso sul grado di sfida ci sarà poi ancora qualcosa da aggiungere quando vedremo come si costruiscono i mostri e quindi come varia il grado di sfida in base alle modifiche fatte ma il grosso di quello che vi serve per sapere come si calcola il grado di sfida è in questi video in realtà il discorso sul grado di sfida non è ancora finito perché c'è un altro discorso da fare che non riguarda la meccanica ma riguarda più che altro la filosofia del gioco ma lo faremo piuttosto in un altro video probabilmente tra un paio di settimane fino ad allora come sempre lasciatemi un commento sotto dicendo come voi vi approcciate al grado di sfida quando non avete un valore base da cui iniziare a calcolarlo se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella per evitare di perdervi i prossimi video le notificazioni a quanto pare sono di nuovo saltate io come sempre sono il master CAE e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao